mattino 5 news viaggio danelli torna a parlare di miriana trevisan piacevole imprevisto la seconda parte della puntata di oggi di mattino 5 news è stata dedicata interamente al grande fratello vip tra gli ospiti c'era anche viaggio danelli il quale è tornato a parlare del suo rapporto con miriana trevisan al gf vip 6 cosa ha detto in questa circostanza l'ospite di federica panicucci a mattino 5 news ha confessato che mai avrebbe pensato di trovare l'amore all'interno della casa più spiata dagli italiani tanto da spingerlo a lasciare definitivamente la sua ormai ex fidanzata in diretta tv è stato un piacevole imprevisto successivamente federica panicucci a mattino 5 news ha chiesto al suo ospite viaggio danelli se ha avuto modo di sentire la sua ex fidanzata e biaggio danelli ha risposto negativamente facendo un'importante puntualizzazione sono stato colpevolizzato ma tra noi c'era già una divisione lei vive in germania biaggio danelli a mattino 5 news ammette voglio frequentare miriana trevisan federica panicucci a mattino 5 news ha poi chiesto a biaggio danelli se ha intenzione di frequentare miriana trevisan una volta ha finito il grande fratello vip e biaggio danelli ospite oggi a mattino 5 news che poco prima ha criticato solei sorge ha risposto affermativamente ovvio ho lasciato la mia ex pubblicamente perché voglio stare con miriana indipendentemente dal gioco